ben a tutti ragazzi sono federico e bentornati sul mio canale youtube come avete letto oggi dal titolo di questo video aprirò una mystery box streetwear che arriva insomma dal sito del resell italiano e super affidabile streetwear pharmacy dal valore di ben 2000 euro naturalmente dal valore di 2000 euro si tratta della mystery box più costosa che potete acquistare dal sito di streetwear pharmacy e il valore di 2000 euro riflette i prezzi di solito si trova resell sul sito appunto su questo negozio resell romano di roma che appunto si chiama streetwear pharmacy iniziamo subito a prendere lo scatolone la mystery box come potete ben vedere è fuori taglia qua abbiamo gli adesivi tutto attorno soprattutto sul lato frontale è fuori taglia è enorme che si tratta appunto della mystery box da 2000 euro cosa ci troverò dentro direi adesso vado a prendere le forbici spero di averla a punta arrotondata per non farmi male e vediamo che ci troviamo dentro questa mi è stata recapitata con pacco celeri internazionale con super veloce il giorno dopo da loro minchia bella piena almeno da quello che vedo qua vi ricordo che il prezzo è di 2000 euro che riflette i prezzi di solito sul sito di resell ah allora iniziamo subito con questa scatolina bianca che ho capito cos'è finissima la prima volta te ne vedo una dal vivo si tratta del timbro di supreme uscito l'anno scorso che quando lo metti sulla carta esce questo logo qua don't ask me for shit non mi chiedere roba molto utile se devi avere una cartoneria hype questo me lo metterò in ufficio mentre lavoro non so per farci cosa però è un bel pezzo è divertente anzi lasciamo fuori dopo lo scatto abbiamo poi un paio di calzini di aaron preston la versione quella con i loghi della nasa vedete faccio zoom anche uscita quest'anno pochi mesi fa belli belli cotone pazzesco uscita un bel tocco calzini di aaron preston questi della nasa taglia m sì sicuramente mi vanno bene e vai queste non ne ho nemmeno una non l'ho comprate però è una delle linee mi piacciono di più è la linea di collaborazione che fa cos l'artista con uniclo uniclo il brand giapponese ogni anno praticamente questo si tratta della felpa molto leggera con appunto collaborazione tra cos poi il programma americano sesam street quello con le marionette i pupazzi e appunto uniclo il brand giapponese e oltre qua esserci tutte le etichette abbiamo appunto un disegno in bianco e nero qua con elmo oddio qui monster e poi con il pupazzi e cose il compagno anche insomma sta al posto del mostro della spazzatura di cui adesso non mi ricordo il nome è la mia taglia spero m perfetto che culo e vai anche se questo ce l'ho già però appunto si tratta del cappellino box logo dell'anno scorso in questo colore una colorway magenta col box logo ricamato verde acceso verde neon questo sempre fatto con new era come una maggior parte dei cappellini di supreme madonna finisce mai la roba qua allora qua ci sta una maglietta di nike in collaborazione con vedete se siamo passati abbastanza veloci a riconoscerla tantino riesco ad aprirla qua in collaborazione con off white è una di quelle che era uscite per la release potremmo dire a tema halloween anche se era precedente a halloween che è mazza il cotone è ottimo non me l'aspettavo che è questa qua nike per off white che davanti sembra tipo una un blazer una giacca con la camicia e il pavillon e dietro che sta l'aquila che ricorda molto la maglietta di travis scott con il logo nike e lo sbush taglia l quindi mi starà un po' grande però vabbè questo è un ottimo pezzo comunque il cotone non pensavo fosse così buono è veramente ottimo al tatto poi questo è un brand che di solito non indosso infatti penso che me le resellerò subito si tratta delle slides quindi le pantofole cioè scusate le pantofole le ciabatte da mare da piscina e la collaborazione tra il CNM di Moschino e Moschino figo il packaging però appunto Moschino di solito è un brand che non indosso queste sono fatte di pelle effettivamente sono fatte abbastanza bene anche il rigamo qua molto spesso è tridimensionale un paio di pantaloni della linea Kanye West per aria Scalabazos questa è una versione verde con strisce grigie taglia S la mia taglia che è puro questi non ve li tiro a cuore perché li conoscevo benissimo maglietta Supreme la prima volta che la vedo questa in realtà bedroom T vediamo un po' che grafica ha sembra dire una ragazza che indossa i boxer di Supreme nella sua camera letto con dei colori un po' da Picasso non lo so impressionisti potremmo dire e con una pistola in mano sembra una desertica no una beretta curiosa come grafica carina a me non è troppo logata quindi è facile da indossare quindi questa è una maglietta Supreme poi ottimo una bella maglietta del brand Off-White da sola non in collab con Nike bella questa Off la stampa davanti Off e sul retro abbiamo la scritta Off-White in un blu con un lavaggio molto forte questo c'è una nuova e stanno anche tutte le etichette nuove con il nuovo tag che utilizzano loro di Off-White e niente sotto a tutto c'è stata la parte più bella anche se questa c'erano già di questo colore ma tant'è sempre meglio box logo l'anno scorso questa orange on grey perché appunto il box logo è arancione e la felpa è grigia taglia vediamo un po' large quindi mi starà un po' larghina però tanto ce n'ho già una quindi la che prendo questa dopodiché questa vale parecchio Jordan 1 giudicata la scatola yes belle 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 si tratta di delle royale caratterizzate questa color poi blu e nera veramente belle queste poi sono delle mie colori preferite e anche delle colori OG assieme che ne so alle Bread e le Chicago abbiamo addirittura la ricevuta giustamente perché Streetwear Pharmacy tra l'altro qua ci sono tutti gli adesivi dentro la mystery box Streetwear Pharmacy è molto legit ed è un sito appunto che fa tutto con estrema precisione e curatezza quindi ha messo anche la ricevuta che ti spedisce Nike assieme alle scarpe un ulteriore certificato quindi di legittimità di originalità abbiamo detto poi qua ci stanno gli adesivi Streetwear Pharmacy con la pillola che ricordo un po' quella del giubbino del giubbino di Akira e poi ultimo ma non meno importante questo Borealis backpack questo zaino Borealis di Supreme per The North Face nella colorazione bronze uscita l'anno scorso con le giacche nel trittico di giacche metallizzate c'era appunto bronze anzi un rose golden o rosa oro giallo e argento questa è la versione oro rosa degli zaini del Borealis veramente direi molto contento di questa mystery box a 2000 euro perché penso che siano molto ben spesi qua vi ho messo il totale qua accanto dei pezzi che ho trovato secondo i prezzi di resell sul sito qual è secondo voi poi tra l'altro fatemi sapere nei commenti il pezzo migliore che ho trovato dentro questa mystery box di Streetwear Pharmacy tra l'altro Streetwear Pharmacy che trovate il link in descrizione del loro Instagram qui andateli a seguire magari le ciabatte di Moschino forse queste no però c'è stata totalmente tanta tanta bella roba in più vi ricordo di trovare in descrizione anche il link al mio Instagram quindi mi lasciate un follow e anche il link al sito di Creep Protect che è il sito del marchio di cui utilizzo i prodotti per la pulizia delle scarpe e delle sneakers anche questo ad esempio è lo spray contro la sporcizia e anche la pioggia l'acqua quindi che dire veramente una bella mystery box fatemi sapere qual è il pezzo migliore che ho trovato dentro a questa mystery e noi ci becchiamo prossimamente sempre qui sul mio canale YouTube per un nuovo video quindi mi raccomando sintonizzatevi di nuovo da Federico per oggi è tutto e bello a tutti